inizio signori inter atletico forza ragazzi maglio speciale per un'occasione speciale forza ragazzi uuuh dai ma perché ma direi prima dai ma dai ma dai ma tiriamo mezz'ora prima ma dai ma dai ma dai finisce il primo tempo signori l'unica preoccupazione è Turam sembra che si sia fatto male speriamo bene finiamo al secondo inizio il secondo tempo signori però ci sono brutte notizie Turam è uscito brutte notizie speriamo bene anche se la vedo dura no bella però no 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 ma che te succede ma che te succede Don Bologna faceva proprio no no mi chiede che è la cosa così prendila prendila pericoloso offensivamente parlando bel lavoro di Arnautovic Cialanovlu dentro ancora per Arnautovic che vada a lautare 1-2 Arnautovic in area di rigore Arnautovic ha calciato l'alto non mi ha sbagliato non mi ha sbagliato questo sta diventando tormentato di Arnautovic con quella porta anche se con la Traglian ha trovato il gol della bravissima riceve da Cialanovlu bravissimo a trovare subito la Traglianovic a chiedere 1-2 1-2 gli arriva lo vediamo meglio aspetta ha fatto tutto bene la Traglianovic sono morti si contano sulle dita di una mano l'interna avuta nel primo tempo questa è stata un'altra occasione veramente chissà sembrava lo spirito di Peppe chissà che cosa gli avrà detto era lo spirito di Peppe ma che bravo che c'è in primo tempo in primo tempo a cazzo si sa scutato qui non si vede non si vede fordico vai guarda guarda bravo guarda 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 Arnautovic Sì Mamma mia Sì Ha sbagliato, troppo lento Sommer, però cazzo, esci là Sì E andiamo Vinciamo anche questa Sì Mamma mia Che squadra signori Mamma mia Si è mangiato tre gol Arnautovic, però Ha fatto il quarto L'unica preoccupazione adesso Le condizioni di Turano Grazie alle secce di Tales Di Trevisani Si è fatto male Speriamo che non sia nulla di grave Però che squadra signori Che partita Che partita Ormai non abbiamo paura più di nessuno Speriamo che Non sia nulla di grave E che dire signori Siamo fortissimi Siamo una squadra Fortissimi Vi ricordiamo sempre Di guardare questo video Di lasciare un mi piace E di iscrivervi a questo canale E commentate con la parola nuova Che ha di oggi Pisellino Pisellino Ci vediamo giovedì Con Mil Ren Smil Un Stere Ciao Ciao